sarà in libreria edito da mondadori con il suo nuovo romanzo tutto è qui per te ne parliamo con l'autore fabio volo e che autore strano vederti qua pesci no dico tu sei l'uomo che viaggia di più al mondo si vedo i tuoi siti viaggi continuamente quando posso sempre la vita è un viaggio la vita è un viaggio però ho visto le ultime foto a parigi a new york la settimana scorsa sei stato in amazzonia sì sono stato a vivere con gli indigeni un mese che ti hanno detto di salutarti tanto ti hanno riconosciuto no però è stato un'esperienza molto bello qui sei in un villaggio turista dove sei no qui era perché per andare lì ho dovuto prendere otto aerei questo era il terzo che ha avuto un resort poi dopo diventavano sempre più piccoli tra l'altro l'ultimo sembrava una risonanza magnetica praticamente stava così però vabbè si è bella parlare una volta dei tuoi viaggi invece adesso parliamo di il tuo ultimo romanzo che il tredicesimo sì tutto è qui per te esce il 14 novembre per mondadori tra l'altro lui in un video così si smette la polemica ha fatto vedere che effettivamente ha un ghostwriter anzi un cat writer che lui dice che il tuo gatto che si si salta sulla tastiera qualche anno fa si diceva il mio gatto ha camminato sulla tastiera ed è uscito un libro di fabio volo allora mi hanno fatto ho detto proviamo l'ho provato ha funzionato ha funzionato quindi ha scritto il gatto tra l'altro questo sì di fatti è il più bello che ho scritto questo è la storia di un amore che finisce e di quelli nuovi che possono cominciare il protagonista si chiama luca ha 48 anni tu quanti ne hai? 51 vabbè però si è appena lasciato con beatrice ma incontra matilde una ragazza che ha la metà dei suoi anni e poi si incontra anche con lucia che è il primo è stato il primo amore dell'università dell'università e frobert diceva madame bovary sono io tu chi sei luca o anche lucia matilde beatrice no in realtà il libro è la storia di questo uomo alla ricerca della di una felicità ed è questa felicità questa promessa di felicità che mette prima nel lavoro poi in una donna poi il rapporto non va bene dice allora è sbagliata la donna lo troverò insomma un uomo che cerca la felicità fuori da sé attraverso i viaggi attraverso tutta una serie di cose finché capisce che appunto la felicità è una porta che che si apre da dentro e quindi deve fermarsi e rientrare di solito uno pensa sai c'è sempre poi con facebook è saltata fuori questa cosa che tu dici vado a riprendermi la fidanzata di 22 anni fa che forse con le altre non ha funzionato perché era lei quella giusta adesso sono maturo e poi no infatti il valore vero è la ricerca la ricerca si fa è la ricerca insomma no e adesso senza spoilerare come avete voi giovani ma tutto è qui per te la morale che in qualche modo bisogna anche sapersi arrendere sì l'ho scoperto lì nell'amazzonia tra l'altro questa cosa durante una cerimonia con con gli indigeni io cercavo in qualche modo delle soluzioni a dei problemi della mia vita e mi facevo carico di una serie di cose cioè pensavo di essere in grado di poter gestire tutto di tenere in mano tutto ci sono queste forme di carattere di persone che 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 cercano di tenere in piedi un po tutti anche le cose degli altri e invece ad un certo punto penso che ci sia come dico anche nel libro uno sguardo benevolo sopra di noi e basta anche un po invece che inseguire sempre la vita fermarsi aspettare che la vita ti venga incontro io è stato per me un viaggio trasformativo quel viaggio perché sono responsabile di tante cose però ho imparato ad accettare e navigare con le cose che la vita mi dà ecco senti ma proprio dicevi prima che 51 anni ma dopo i 50 come va è vero che adesso quando vai al ristorante il cameriere ti dice se vuoi l'acqua temperatura ambiente perché di l'acqua ti dicono lavoro l'ambiente devo dire che fisicamente avendo la crisi della mezza età non sono mai stato così bene però cito una frase non mia che fa molto ridere quando ero giovane scappavo di casa per andare alle feste adesso scappo dalle feste per andare a casa a lui chiedono quando va al ristorante gli chiedono i selfie anche mentre sta mangiando vero a volte succede sì sì ti arrabbi un pochino no ti arrabbi credo che ci che la credo che la situazione sia un po sfuggita di sfuggita di mano mi ricordo una volta quando ero piccolo con mio padre siamo andati a un ristorante una delle rare volte c'era un attore in quella stanza e mio padre ha scelto il tavolo più lontano perché quella roba la era come dire come dire siamo brutti o sporchi tu sei adesso se c'è una stanza vuota e tu sei al tavolo si siedono a quello fianco ti fanno le foto tra la bottiglia il pane secondo me ci sono dei momenti in cui vale tutto e dei momenti in cui invece la situazione è un po sfuggita ecco senti c'è anche una nel tuo libro c'è anche in tutto è qui per te ornella sì che io ho l'impressione che sia vagamente ispirata un'ornella che conosciamo è un po ispirata sì sì assolutamente diciamo però sì 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 perché dice che lei ornella dice è una che dice quello che pensa non sono sicuro che sia una caratteristica acquisita con l'età credo fosse così anche da giovane se sei vestito male te lo dice se sei ingrassato te lo dice se fai un commento stupido te lo dice sì sì lei io ovviamente io amo ornella vanoni e quindi vi conoscete sì no 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 l'ho incontrata solo una volta però non no anzi mi piacerebbe tanto allora poi dopo vai incontrare adesso in camerino così poi ti dice tutto quello che si deve dire sì sì sono vestito male volentieri fabio ha una vita pazzesca ti dico una cosa che ho scoperto da nostra collega che ha deciso di sposarsi ma non facciamo commenti su questa scelta ok però mi ha detto che al corso prematrimoniale fanno vedere il suo film casomai lo sapevi da quando è uscito il film approfitto anche per diciamo ricordare alessandro dalatri e da quando è uscito quel film e quindi diciamo più credo più di vent'anni è tanti anni fa 2002 2002 esatto da quella dall'uscita la cei lo usa per i corsi prematrimoniali quindi poi quando incontri le persone separate mi rendono anche responsabile ma ti rendi conto incredibile incredibile vanno non avresti mai detto no 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 ma di fatti io ripeto sono 21 anni che incontro gente che mi dice questa cosa io l'ho scoperto la stessa scorsa sì sì no è straordinario io avendo fatto il film non mi sono sposato l'avevo già visto l'ha capito l'avevo già visto è vero che la tua vita è cambiata quando nella nella panetteria dove lavoravi è entrato silvano agosti giusto silvano agosti e ti ha regalato un suo libro e da lì hai capito che in cui ha cambiato la vita la lettura io non ho diciamo non sono andato a scuola quando mi ha regalato il libro mi ricordo io avevo confidenza con silvano disse è come darmi una pugnalata nella schiena a regalarmi un libro preferisco un pacchetto di sigarette per dire da dove vengono e lui ha insistito io ho iniziato a leggere quel libro poi ne ho chiesto un altro e dopo all'età di 15 16 anni ho avuto questa specie di bulimia mi sono proprio innamorato della lettura leggevo tantissimo poi per il fatto di non andare a scuola mi sentivo sempre in difetto ovviamente i miei amici che studiavano nel tempo libro non volevano leggere quindi ho avuto anche un vantaggio e quello ha totalmente cambiato la mia vita sì perché la come dico sempre la scrittura trasforma un tronco in una nave ecco insomma senti fabio tutto qui per te vuoi dire qualcosa ai tuoi lettori che tutto qui per te non è la frase che dice un uomo innamorato una donna tutto qui per anche se lui fa delle pazzine anche se lui fa delle cose strane per queste donne ma in realtà tutto qui per te proprio rivolto a se stesso c'è io non credo alla fortuna alla sfortuna credo che esistano cose più piacevoli o meno piacevoli ma tutto nella vita è qui per te perché sono delle delle esperienze che tu devi vivere soprattutto quelle diciamo anche dolorose perché la tua occasione di di crescita no quando uno soffre tende magari a distrarsi no una magari non sa se stato lasciato gli amici ti portano fuori ecco siccome divertirsi viene viene da divergere cioè guardare dall'altra parte invece lui impara che dentro quel dolore c'è la risposta se per il coraggio di guardare dentro guardare dentro quel dolore perché quel dolore se tu non lo superi ti si rimanifesta nella vita con un'altra strada e quindi tutto è qui per te il bene e il male perché l'obiettivo è solo quello diciamo di fare esperienze per sì per crescere insomma quanti quante coppie di venduto in questi anni lo sai allora devo dire questa cosa tutte le volte si dice 8 milioni 8 milioni ma possiamo anche essere sinceri stasera è stata più un'operazione di marketing in realtà sono più di nove però già con già con otto ricevevo invidia così allora ho detto possiamo dire che ne abbiamo venduti meno ma ne abbiamo superati di gran lunga anche i 9 insomma quindi è ci vediamo per i 10 trasformativo il pre order sta andando molto bene siamo intorno ai 5000 e però al di là dei numeri che non è importante e credo che sia un libro pieno di cose belle non perché l'ho scritto io perché poi era scritto il gatto ma di cose semplici belle che a forza di vedere cose brutte poi uno si dimentica di anche di guardare la bellezza ecco da dopodomani libreria tutto è qui per te mondo adoro grazie fabio volo grazie a presto grazie 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 grazie